Cellulare Oppo Reno 12 Pro premiato da AIS a quale miglior smartphone con intelligenza artificiale 2000 24 2025. Oppo ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento per il suo ultimo modello Reno 12 Pro. Lo smartphone, lanciato sul mercato europeo a giugno, è stato premiato come AIS Smartphone 2024-2025 dalla Expert Imaging and Sound Association, AISA, un'organizzazione che riunisce 56 tra le più autorevoli istituzioni internazionali nel campo dell'elettronica di consumo. Bingo Liu, CEO di Oppo Europe, ha evidenziato come l'azienda stia lavorando per accelerare l'adozione dei telefoni AIS in Europa, estendendo questa tecnologia oltre i dispositivi di fascia alta. Siamo onorati di essere riconosciuti per il nostro impegno nell'accelerare l'adozione dei telefoni AIS in Europa. Quest'anno, Oppo ha intensificato i propri sforzi per rendere la tecnologia AIS accessibile a un pubblico sempre più ampio, andando oltre i soli dispositivi di fascia alta. Il Reno 12 Pro, insieme agli altri modelli della serie Reno 12, è stato progettato con una serie di funzionalità ai pensate per migliorare l'efficienza e la creatività nella vita quotidiana. La vittoria del prestigioso premio AISA per il quinto anno consecutivo evidenzia il nostro costante impegno nel creare dispositivi che rispondano perfettamente alle esigenze dei consumatori europei, ha affermato CEO di Oppo Europe, Bingo Liu. Reno 12 Pro si distingue per una serie di funzionalità innovative, progettate per migliorare l'efficienza e la creatività nella vita quotidiana degli utenti. Tra queste, spiccano l'Eye Razer 2.0, che permette di rimuovere facilmente oggetti indesiderati dalle foto, e l'Eye Clear Face, che ottimizza le foto di gruppo migliorando la nitidezza e riducendo la distorsione. Infine, l'Eye Link Boost garantisce una connessione stabile anche in condizioni di segnale debole. Paul Miller, presidente di AISA, ha aggiunto, l'Oppo Reno 12 Pro si distingue per le sue avanzate capacità in vari ambiti 1. L'Eye Razer 2.0 elimina facilmente oggetti indesiderati dalle foto, garantendo immagini pulite e professionali, mentre l'Eye Clear Face ottimizza le foto di gruppo, aumentando la nitidezza e riducendo la distorsione, mettendo in risalto ogni volto 2. L'Eye Link Boost garantisce una connessione senza interruzioni anche in ambienti con segnale debole, migliorando l'esperienza online degli utenti. Inoltre, il Reno 12 Pro offre un display AMOLED da 6,7 pollici, un potente processore Mediatek Dimensity 7300 Energy e una batteria da 5.000 macro ricarica rapida, rendendolo un dispositivo completo sia per gli appassionati di AI che per chi cerca uno smartphone versatile e performante per l'uso quotidiano. L'impegno di Oppo nel campo dell'AI è testimoniato dai oltre 5.000 brevetti depositati negli ultimi 10 anni, con circa il 70% dedicati all'imaging AI. L'azienda collabora inoltre con giganti del settore come Google e Microsoft per offrire esperienze AI avanzate, basate su un'architettura ibrida tra dispositivo e cloud. Oppo prevede di estendere le funzionalità AI generative a circa 50 milioni di utenti in tutto il mondo, entro la fine dell'anno. In linea con questa strategia, molte delle funzionalità AI presenti nel Reno 12 Pro sono disponibili anche nei modelli Reno 12 e Reno 12F, dimostrando l'impegno dell'azienda nel democratizzare l'accesso a questa tecnologia. Reno 12 Pro è disponibile in Europa al prezzo consigliato di 549,99 euro, mentre il Reno 12 è proposto a 449,99 euro. Il Reno 12F è offerto in due versioni, 5G a 329,99 euro e 4G a 279,99 euro. Grazie a tutti! Grazie a tutti